Un branco di cinghiali cammina liberamente per le vie della città di Agropoli e diventa protagonista di un video diventato virale. Non solo i cinghiali affollano le campagne del Cilento, ma insistentemente, da qualche mese, anche nei centri urbani come Agropoli e Castellabate, gli ungolati passeggiano indisturbati alla ricerca probabilmente di cibo. Questo animale selvatico è risaputo essere molto aggressivo verso la specie umana. L'ultimo avvistamento è stato ad Agropoli. Una famiglia di cinghiali con papà, mamma e cuccioli al seguito è stata vista e ripresa nella centralissima via Pio X, ma anche su Lungomare San Marco. Ad intervenire sulla vicenda è il primo cittadino Adamo Coppola. Questa mattina, dichiara Coppola, insieme al comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia, ho inviato una lettera alle autorità regionali e locali per segnalare la presenza di cinghiali nel centro abitato e richiedere interventi immediati. Purtroppo il problema ungolati sta crescendo a dismisura non soltanto ad Agropoli, ma anche nei centri limitrofi e in altre zone d'Italia. I comuni non hanno poteri in merito, ma abbiamo chiesto agli organi competenti di fare tutto il possibile per contrastare un fenomeno che rischia di arrecare disagi e danni a cose e persone. L'auspicio, conclude Coppola, è che anche il governo prenda provvedimenti in tempi brevi per affrontare la questione su tutto il territorio nazionale.